Sta leggendo quest'articolo che racconta le differenze tra la relazione agli inizi e una relazione dopo anni. E se ci pensi anche noi siamo cambiati tantissimo. Beh, buon San Valentino. Grazie. Spero che ti piaccia, non è stata facile. Oh, che bello. Davvero, ti piace? È bellissimo, come facevi a sapere che era proprio questo? Non lo so, mi sentivo ispirato. Bellissimo, grazie. Prego. Vabbè, tieni. Ma cos'è? Non è tipo San Valentino? Ma va, che carino. Ti piace? Ma cosa ve le faccio di sta roba? Hai ragione. Beh, sì è vero. Che poi in effetti c'è anche quell'altra cosa. Allora ti è piaciuta la mia minestra di fagioli? Buonissima, guarda non ho mai mangiato niente di così buono. Comunque prima che cominci il film vado un attimo a fumarmi in segretta, è velocissimo. Ma tu non fumi. Non è mai troppo tardi per iniziare. Cosa c'è in tv? Il boss delle torte. Non è la stessa puntata di ieri? No dai, no. Che schifo. Terribile. Altro che torte. Sì però, anche tu sei cambiato. Dai attacca prima tu. No dai, 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 attacca prima tu. No, io non voglio attaccare. Ma va bene, allora ancora un'oretta. Sì, che bello. Sì. Chi è? Ehi la, ciao sono io. Ah ciao amore, guarda scusa ma sto entrando in galleria adesso. Ma ti ho chiamata a casa. Eh, no, non di sé. Amore, no, no. Buono, non so. Prepariamoci che dobbiamo andare a cena da mia mamma stasera. Dai andiamo a prepararci, che stasera siamo a cena fuori. E dove andiamo? Andiamo da mia mamma così finalmente te la presenta. No. Dai andiamo. No. Dai, vieni. No, 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 non voglio. No, non voglio. No, non voglio. No, non voglio. No, no, no. Non voglio, non voglio Dai, faremo i tanti. No. Fa fame, fa fame Per favore, fa fame. Eheha. Dai, no, non voglio. No, no, sì. No, no, no. Bye, bye. No. No, 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 no. No, no. No, no.